Dunque, siamo arrivati all'ulteriore step per questa progettazione di unità di apprendimento ed è il momento in cui si può incominciare a scrivere. Ecco, questo sarebbe il momento in cui uno potrebbe aprire il curriculum mapping perché, come ho detto prima all'inizio di questo nostro percorso, il curriculum mapping si apre con il titolo dell'unità di apprendimento e come abbiamo visto nel nostro percorso non è il primo argomento che dobbiamo trattare. Il titolo, quindi l'argomento, le conoscenze disciplinari e i nuclei concettuali su cui vogliamo basare il nostro progetto, deve essere una fase che viene dopo una riflessione che il consiglio di classe deve fare con estrema attenzione. Vi continuo a chiedere di essere estremamente attenti alla necessità dei singoli studenti. Quando Marcello parla di rubriche, le rubriche sono sia delle competenze sia le rubriche di valutazione. Sulle rubriche di valutazione poi parleremo in un momento successivo. Vi daremo proprio del curriculum mapping e magari un breve video lo alleghiamo a questo nostro percorso dove potrete vedere che all'interno del curriculum mapping sono mappate praticamente tutte le competenze per ogni ordine di scuola, dall'infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado e ad ogni competenza sia del primo biennio che del secondo biennio che del quinto anno per quanto riguarda le scuole superiori vengono abbinate le relative abilità e conoscenze. È una mappatura, una sintesi delle varie competenze che vi può servire in maniera tale che quando dovete fare queste riflessioni abbiate tutta la normativa a portata di mano e non dovrete andare a cercarla disperatamente sul web o sui vari documenti che magari la scuola vi dà. Però insomma mi sembra essenziale averla già strutturata tutta in una maniera organizzata. Ma è soltanto di consultazione, badate bene, perché poi servirà per la creazione dell'unità di apprendimento, ma questo è per chi usa il curriculum mapping. Quindi incominciamo a dire che si descrive, si incomincia a scrivere l'unità di apprendimento, quindi si incomincia a definire chi sono gli utenti, si incomincia a definire chi sono i docenti e le discipline coinvolte, se questa unità di apprendimento è per consigli di classe, di dipartimento o disciplinare, potrebbe essere anche un'unità di apprendimento disciplinare. Si può incominciare a definire quali sono gli strumenti che si hanno a disposizione. Gli strumenti possono essere sia le tecnologie, sia i laboratori, sia gli ambienti che noi andiamo ad utilizzare, ma anche gli strumenti di tipo la carta, la penna, la biblioteca, i libri di carta, tutto ciò che vi può essere necessario per svolgere la vostra unità di apprendimento, in relazione ovviamente a ciò che vogliamo, al fine, agli obiettivi che ci siamo prefissati. Dopodiché dobbiamo pensare a come svolgere le nostre lezioni e soprattutto che tipo di lavoro vogliamo far svolgere i nostri ragazzi, perché è fondamentale imparare facendo ed è fondamentale che i ragazzi imparino a descrivere il loro processo di apprendimento. Questa è una delle più gravi lacune della scuola italiana. Cioè le scuole italiane non hanno mai, molto raramente, adesso già molto meglio, ma fino a qualche tempo fa, c'era una grande difficoltà a raccontarsi e a raccontare i propri progetti, le best practice, no? Cioè se voi fate caso, è difficilissimo trovare, o era difficilissimo trovare, anche sui siti scolastici, magari delle esperienze bellissime che le varie classi avevano svolto, ma l'incapacità non è un'incapacità di tipo tecnico, è proprio la difficoltà che si ha, anche per la gestione dei tempi evidentemente, di raccontare in maniera esaustiva come si è svolto un progetto e come i ragazzi hanno, nelle loro step di lavoro, appreso quelle competenze, quelle conoscenze o hanno sviluppato quelle abilità che noi ci siamo prefissati che loro dovessero raggiungere. Ecco, c'è questa mancanza di capacità del descriversi, del raccontare. Invece è fondamentale per i ragazzi descrivere tutti gli step del loro lavoro e quindi la definizione del cosiddetto lavoro finito, cioè che cosa noi vogliamo far creare ai nostri ragazzi. Di solito quando parliamo con i docenti, sono i docenti che lo decidono, no? Adesso molto di moda la gamification, quindi magari i ragazzi che vogliono creare dei videogiochi oppure raccontare un percorso attraverso il videogioco. Moltissimi usano ancora il PowerPoint, soprattutto se ci sono dei lavori di gruppo, altri fanno dei siti web, altri raccontano con la realtà aumentata la realtà virtuale oppure fanno dei blog. Insomma, le modalità e gli strumenti che si hanno a disposizione ci permettono, ma anche i video, no? Fare dei video dove si raccontano le varie fasi del lavoro. Anche perché non scordiamoci che i nostri ragazzi sono degli youtuber nati, quindi insomma il raccontarsi sulla rete per loro ormai è diventato molto facile, molto frequente. Ecco, un suggerimento. Quando si decide il tipo di lavoro finito, cioè che tipo di prodotto multimediale, o anche cartaceo, o anche un testo per chi lo vuol fare, farlo decidere ai ragazzi. Veramente, sono i ragazzi che devono decidere la modalità con cui raccontarsi e con cui descrivere il loro percorso, il processo di apprendimento. Ribadisco questo concetto, raccontare il proprio processo di apprendimento, non semplicemente come ho fatto la ricerca, ma il raccontarsi il lavoro finito è il modo per rendere, il fare che in alcuni istituti è più semplice perché magari devono lavorare in laboratori a livello pratico, fisico. Per chi fa invece, non ha dei laboratori di tipo fisico, immagino le scuole professionali piuttosto che le scuole tecniche hanno più facilità in questo senso, perché hanno dei laboratori di tipo fisico. Ma tutti gli altri ordini di scuola, ma sin dall'infanzia, è necessario invece che producano qualcosa, un lavoro che permetta loro del descrivere, ma soprattutto che permetta loro di riflettere se stanno svolgendo il loro processo di apprendimento in maniera corretta. E nella loro riflessione, il docente deve comprendere dalla loro riflessione se il percorso è corretto o no, perché se i ragazzi nell'autovalutazione si accorgono, ci segnalano che quello che stanno svolgendo non è ciò che loro desideravano svolgere, o nella riflessione non imparano, si annoiano, hanno delle problematiche particolari, è chiaro che, e quando dicevo l'unità di apprendimento non è mai definita, ma è chiaro che va ad essere a modificarsi, dobbiamo modificare la tipologia di lavoro. Ecco proprio il discorso delle metodologie didattiche. Io suggerisco di non sposare mai una metodologia unica, cioè si può fare una metodologia unica così come contesto generale, ma nel momento in cui si lavora, le metodologie sono a secondo della necessità del momento. Se vedete che fare un lavoro di gruppo distrà i ragazzi, perché in quel momento i ragazzi non sono portati, non si annoiano, oppure fanno finta di studiare, ma di fatto giocano, guardano altre cose, non eseguono i compiti in maniera corretta, perché in quel momento il lavoro di gruppo non rientra nei loro interessi, vogliono fare altro, cambiate immediatamente strategia. Fate, non so, un circle time, fate un brainstorming, fate qualcosa, cioè dovete cambiare metodologia a secondo, applicare metodologia a secondo delle necessità e del contesto in cui voi vi trovate. Per cui io posso fare anche la Flipped Classroom come metodologia generale, ma all'interno della Flipped Classroom metterò in atto, talvolta il Cooperative Learning, talvolta la laboratorietà, talvolta il circle time, talvolta il brainstorming. Io vi suggerisco anche di andare a guardare il sito metodologiedidattiche.it, che è un nostro progetto dove abbiamo catalogato una ventina di metodologie. non perché uno le debba conoscere tutte approfonditamente, ma avere un'idea di quali sono le metodologie più in uso, in maniera tale che almeno a seconda delle necessità e dell'esigenza del momento, queste metodologie vengano applicate. Marcello, vuoi continuare questo discorso? Sì, dunque, quindi lo step che rimanda all'uso delle metodologie deve prevedere una conoscenza comunque del docente, delle varie metodologie e soprattutto avere ben chiari che le metodologie che vengono scelte sono consone alle competenze da promuovere, cioè questo legame tra competenza da promuovere e metodologia deve essere assolutamente chiaro. Un altro aspetto, secondo me, importante è quello di riflettere sulla dimensione relazionale dell'apprendimento nella misura in cui non esiste un UDA in cui non è previsto un spazio, diciamo, e un tempo per appunto far sì che ci siano dei momenti in cui i ragazzi collaborano o condivivano tra di loro. Questo è molto importante perché è un aspetto dell'apprendimento molto forte e l'altro aspetto legato alle metodologie soprattutto in periodi come quello che stiamo vivendo e ce ne siamo accorti è quello di precisare gli ambienti e gli strumenti che possono favorire l'apprendimento. Ecco che qui soprattutto per alcune metodologie è molto utile se non indispensabile usare degli ambienti e degli strumenti digitali per cui si rimanda sempre comunque in tutto questo discorso al favorire la competenza digitale all'interno della scuola sin dai primi anni degli apprendimenti dei bambini e poi dei ragazzi. E un'altra riflessione che si lega a questa delle metodologie rimanda proprio alla consapevolezza di un cambiamento del ruolo del docente. È chiaro che usando metodologie come quelle che vengono chiamate innovative anche in modo improprio sono metodologie alcune anche molto oramai che hanno molti molti anni comunque sono metodologie che fanno sì che il ruolo del docente cambi in classe e cambia dal punto di vista fisico cambia quindi la classe quando siamo in presenza cambia la classe dal punto di vista della disposizione delle cose e anche proprio quindi lo spazio del docente che non è più uno spazio prefissato come quello a cui siamo abituati ma è un nuovo spazio che non è solamente uno spazio materiale ma può essere anche uno spazio dell'immateriale e comunque proprio una funzione didattica che è assolutamente diversa e questo anche per le esperienze che molte volte ci hai raccontato tu Dianora rispetto a proprio a come quando abbiamo iniziato a fare scuola noi eravamo un certo tipo di docenti e poi siamo siamo cambiati perché è cambiato il contesto in cui noi lavoriamo e ci muoviamo beh immaginiamo ad esempio su questo poi ho detto parleremo l'importanza proprio anche degli ambienti in cui si vive e della trasformazione veramente di questi ambienti che vanno oltre l'arredo che vanno oltre gli strumenti fisici immaginiamo come già ho detto in un altro video immaginiamo di essere oggi in una classe in presenza con i nostri studenti dove dobbiamo fare dei lavori di gruppo perché i ragazzi devono collaborare tra di loro devono produrre del materiale come fanno in una situazione dove devono rimanere fissi nel loro banco a un metro di distanza non possono alzarsi cioè ci sono dei condizionamenti così forti ma io credo che non sia più necessario come era la mia dieci anni fa che i ragazzi si aggreghino intorno al banco oppure vadano nelle classi 3.0 dove erano fatti ad isole oppure vadano nei corridoi o nell'atrio ad aggregarsi se è possibile sicuramente è molto importante ma oggi c'è il web è questo che io continuo a dire proprio la metodologia della collaborazione e condivisione del lavoro di gruppo i ragazzi lo possono svolgere benissimo nel web nell'immateriale fanno dei gruppi di lavoro del web cioè anche se fisicamente sono lì fissi nel loro banco o se sono in casa loro davanti a un monitor fare gruppi di lavoro interagire con i ragazzi direttamente con loro attenzione il ruolo del docente è importantissimo ma è delicatissimo perché deve fare in modo che siano i ragazzi a scegliere io questo lo continuo a dire fate in modo che i ragazzi scelgano le modalità del loro percorso di apprendimento poi laddove ci sono delle criticità saremo noi che li condurremo no in una a risolvere le loro criticità ma non imponendo non giudicando non mettendosi dalla parte del docente che eroga la sua le sue informazioni le sue conoscenze come avviene talvolta no quando si fa una lezione in frontale ecco questo si deve trasformare ma anche sul ruolo del docente sulla modalità del lavoro del docente sulla modalità dei lavori di gruppo sia in didattica a distanza che in presenza sarà oggetto di altri momenti di approfondimento via web ecco quindi mi raccomando le metodologie che siano metodologie che si conoscano ma mai una sola metodologia vedete il concentrarci sulla sulla metodologia definita innovativa come se io andando in classe decido di svolgere per due tre lezioni una metodologia che possa essere il debate che può essere la flippe class che può essere il tinkering può essere qualsiasi metodologia e pensare che questa sia la soluzione alla didattica ad una didattica innovativa senza prevedere un progetto che parta dagli step che abbiamo individuato in questo nostro breve percorso non va bene perché la metodologia è il modo con cui io attuo un progetto lo metto in pratica con i miei studenti ma dietro ci deve essere che cosa io voglio perché applico quella metodologia che cosa che scopo ha applicare quella metodologia perché io li devo far lavorare in una certa maniera perché io devo che cosa voglio osservare perché noi dobbiamo osservare i nostri ragazzi quando lavorano cioè non può essere estrapolata da un contesto più generale di progettazione perché se noi ci focalizziamo solo sulla metodologia è come una tassello di un puzzle che va bene e svolgeremo anche in maniera assolutamente reguata e non ho minimamente dubbio ma mancherà il contesto generale che è tutto ciò che vi abbiamo indicato in questi brevissimi poi è chiaro che ogni step ha degli strumenti delle tecnologie delle app dei software delle piattaforme che si possono utilizzare poi potremmo spiegare fino a mai tutti i modi per svolgere questo progetto però vi abbiamo voluto dare delle indicazioni però attenzione quando leggiamo metodologie didattiche da sole da sole no perché diventa frammentario metodologia didattica un senso all'interno di un progetto che ha scopi obiettivi fini competenze conoscenze definite se non c'è questo la metodologia affina a se stessa ha un valore assolutamente relativo va bene grazie 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 grazie